Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Ascoltate la parola del Vangelo secondo Marco. Acque sopra i cieli, piogge e ruggiate, ghiacci e nevi, sorgenti e fonti, mari e fiumi, fiori ed erbe, piante e animali, figli dell'uomo, benediciamo il Signore. A Lui onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.